Ecco qua, nuovo il regolamento della scuola Qua non si fanno per tutte le violenze Qua, altrimenti 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 di sì Qua hanno fatto ma il regolamento della scuola Qua non rispetta le regole 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 della scuola Che hanno fatto dei gormiti Perché Damiano è nato nel 2009 Perché Damiano è nato nel 2009 Perché Damiano Tottose è nato nel 2003 e nel 2006 Perché Damiano Tottose è nato nel 2003 ma è nel 2006 Perché Damiano Tottose è nato nel 2003 ma è nel 2006 E quest'anno Sotto l'anno Ma che cosa non lo fanno ma ma nel 2010 E vediamo come si comportano E vediamo ma con le regole della scuola